Domani sera alla Spezia sotto Palazzo Civico associazioni e partiti politici organizzano un presidio per la sanità pubblica. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad una nuova mobilitazione? Intanto come manifesto per la sanità locale aderiamo a questo presidio che è organizzato a seguito di una mozione che è stata fatta unitamente a tutti i partiti dell'opposizione in Consiglio Comunale proprio per la difesa della sanità pubblica. Le motivazioni sono molto concrete devo dire e tracciano un po' una linea di continuità con quello che noi anche come associazioni sostenevamo da tempo e cioè che alla Spezia c'è un grosso rischio di estinzione della sanità pubblica, lo direi proprio così. Quindi abbiamo circa un migliaio di posti di lavoro in meno, quindi infermieri e medici in meno, circa 200 posti letto in meno rispetto a quello che è la media regionale per non parlare ancora dei posti letto carenti nelle residenze sanitarie assistite. Quindi ci sono tutta una serie di punti su cui credo sia difficile dire che possa essere una mozione come dire strumentale. Io auspico che ci sia una discussione seria all'interno del Consiglio Comunale anche da parte della maggioranza perché quello che si chiede non sono cose in più cose straordinarie ma sono semplicemente il riallineamento di personale, posti letto e dotazioni che hanno tutte le altre asla della Liguria. In particolare poi c'è la cosa molto grave del canone di costruzione del nuovo felettino che andrà anche qua al privato con oltre 10 milioni di euro per 25 anni e mezzo da pagare a chi costruisce l'ospedale e che attualmente fanno carico a noi cittadini spezzini. Il presidio poi credo sia anche rappresentativo di quella che è un'unità che stiamo cercando di realizzare insieme non solo alle forze politiche ma anche quelle sindacali, ci sarà la CGL. È una questione che i cittadini spezzini in generale della provincia sentono come prioritaria. Sì e devo dire che nelle altre occasioni c'è stata molta partecipazione dei cittadini. Io faccio un appello proprio a tutte le persone di venire domani sera appunto giovedì sotto il palazzo del comune di La Spezia alle 20 e 30 per partecipare a questo presidio.